signori possiamo cominciare ringrazio tutti per essere intervenuti qui ringrazio in primis l'organizzazione e il suo cuore pulsante vivo vivace e luminoso che è il dottor Armando Bonaiuto grazie al quale e grazie all'aiuto fondamentale del mio amico di mille avventure Guido Zanderigo siamo riusciti a portare questo graditissimo ospite che ci onora io sono Gianni Pellegrini insegno qui a Torino sanscrito sarò veramente telegrafico per non togliervi il piacere di ascoltare questo personaggio che è veramente unico partiamo da semplicemente due piccole considerazioni rispetto a quello che ascolteremo oggi spero sentiate tutti chiaramente datemi un segno semplicemente perfetto siamo di fronte vedete il titolo del nostro del nostro del nostro convegno è come legni storti di cosa si fa voi sapete che è una un aforisma kantiano che individua una presa d'atto che tipo di presa d'atto una presa d'atto di un di una condizione cronica di malattia dell'essere umano ok ecco che all'interno di una di un'area che è assolutamente problematica per lui sorge un anelito sorge un'urgenza che tipo di urgenza che malattia ho qual è il mio problema fondamentale perché sono storto perché sono deformato perché il mondo impatta su di me e io sono completamente fisicamente e psichicamente deformato da questa cosa il mondo indiano ha determinato attraverso un'anamnesi dei sintomi dell'umano ha determinato che cosa questa malattia l'ha individuata con un termine preciso si chiama avidia avidia che cos'è avidia è una un'ignoranza una confusione una cecità un'incapacità di vedere come stanno le cose ecco che di fronte all'anamnesi dei sintomi e alla malattia l'eziologia della malattia individuata sorge che cosa evidentemente il bisogno di un antidoto il bisogno di una cura ok che sia di natura contraria alla malattia stessa ecco che sorgono in india tutta una serie di cure di antidoti che si chiamano a sua volta vidia queste scienze queste sapienze all'interno di questo grande mondo di sapienza e scienze una eccellente è shri vidya shri vidya che tipo di vidya che cosa significa permettetemi solo altri due minuti è quella vidya che ha come obiettivo shri e che cosa vuol dire questa cosa è quello strumento sapienziale che conduce a una dimora sicura una dimora salutare che si chiama shri shri che cos'è letteralmente vuol dire lustro letteralmente vuol dire fortuna gloria bellezza è quella scienza che conduce alla bellezza che tipo di bellezza è la bellezza della beatitudine intrinseca alla coscienza più interiore e pura degli esseri umani che cos'è shri vidya è quello strumento quel mantra quella cura che conduce tutti gli esseri a immergersi a immedesimarsi in che cosa nella coscienza più pura impara samvit che è il significato ultimo e originario della parola shri ok ecco noi abbiamo la fortuna qui di avere un maestro di un antichissimo lignaggio nanda come il dottor nanda kumar di un antichissimo lignaggio familiare di questa scienza che fondamentalmente è segretissima passa attraverso che cosa passa attraverso una sorta di orientamento un'iniziazione di fatti l'altra parte del del titolo è diksha che cos'è diksha diksha è una forma di orientamento di fronte alla scoperta della nostra malattia dobbiamo cercare la cura e abbiamo bisogno di un medico che ci curi l'interiorità colui che ci cura l'interiorità e ci conduce attraverso un orientamento terapeutico verso un approdo sicuro una salute senza ritorno costui è il nostro maestro iniziatore il nostro nanda kumar rappresenta esattamente questa figura ma non solo non rappresenta semplicemente o se volete solo la figura di un maestro iniziatore di questo antichissimo lignaggio ma è anche che è un musicista porta in sé e l'atore di questa doppia sapienza entrambe legate al suono da una parte il suono suonato il suono più armonioso dall'altra parte un suono che risveglia le corde interiori che è il mantra noi siamo fortunati oggi veramente fortunati a poter essere testimoni a poter immergerci poter bagnarci nella confluenza di queste due antichissime e luminosissime scienze entrambe incarnate in una singola persona e lascio la parola al nostro graditissimo ospite che ci onora grazie Shri Maha Trigura Sundari Bhagavati Mata Shri Gurubhyo Namaha It gives me real pleasure and a kind of blissfulness to be here talking about a vidya, a branch of knowledge, a knowledge, a life process with which my generations have lived. È un vero piacere, mi sento quasi un senso di beatitudine a essere qui con voi per parlarvi di questa vidya, di questo ramo del sapere, di questo processo di vita che ha accompagnato le mie generazioni. The learned professor explained perhaps all the basic nuances of the two aspects of my presentation to you. the Shri, the vidya and the diksha, very able, very... with the... he put his heart where his speech was. Il professore che ha preso la parola vi ha già spiegato molto bene le sfumature dei due aspetti di cui parlerò quest'oggi, quindi lo Shri, la vidya e la diksha. E ho sentito proprio mettere il cuore nelle sue parole. I'm very grateful to Dr. Ajani Pleglini and Dr. Armando Buono Lito and Dr. Guido Zandrigo for my sanskritized utterance of the words, of the names of the people to whom I have great respect. Orden my sanskritized expressions of these words. Ringrazio innanzitutto moltissimo il professor Pellegrino, il professor Mondo, Armando Buonaiuto e anche il professor Zanderigo. Mi scuso per aver un po' sanskritizzato la pronuncia dei loro nomi, nonostante siano persone per cui nutro una profonda gratitudine e un grande rispetto. I would also take this opportunity to request both of them to get a suitable translation of what I want to thank the next person. I want to thank my Vakya, Maribhasha translator that we have here. She's amazing and her diction, her expression is fantastic. Ecco, infatti, mi ringrazia molto gentilmente e ringrazia anche me che cercherò di tradurre al meglio anche i termini tecnici che utilizzerà nella sua presentazione. Usually I heard from a lot of my other Italian friends saying that a translator is a traitor also, but in this case the translator is the savior. Shri Vidya, I would like to reverse the order, in that order, that's Shri Vidya, Diksha and the redemption. Let us come from questions on this order, reverse redemption, Diksha in Shri Vidya. Perhaps with this we can manage, hope to manage, to get to your heart, crave for your attention, and hope, pray to my gurus that my little utterances today would give some things, would kindle you, inspire you into some thought and which will be useful to you. Abbiamo parlato di Shri Vidya, Diksha e poi Redenzione. Proviamo a cambiare l'ordine di queste parole, proviamo a partire invece dalla Redenzione e poi parlare di Diksha e poi di Shri Vidya. Ecco, forse partire da queste domande, partire da un ordine inverso, mi auguro che possa attirare la vostra attenzione quest'oggi e mi auguro che le poche frasi, le poche cose che dirò quest'oggi, riescano a donarvi qualcosa, riescano a ispirarvi a fare qualche pensiero che poi vi potrà essere utile. On the outside, I am very grateful, I express my thanks right away for your unbridled attention that you are giving to me and I pray to my guru parampara, that is the lineage of my gurus, my guru lineage, to usher for you great joy and hope that they will, the gurus will bring joy, happiness and many more things that you dearly wish to do in life. Dear people, pardon me, I have to stand because I have been a teacher for all these 45 years and you know India, in our university, the bell has to ring to tell us that the period is over, so I am conditioned, so I request that I be allowed to stand up and speak to you, I hope you don't mind. Life, twisted life, troublesome life, and were we born this way? Have we inherited something by birth? Maybe by DNA? A few twistedness, difficulties? What does that make us to be? Can we get better? These are the questions the Indians are asking. And now I find, whomsoever I meet in this world, they are also asking this question. And this occasion, this conference is a portrayal of the questions collected from the world and the concept has thus evolved. I am very happy to be standing here and take up these questions. This life, which is stalled, problematic, but we are born in this way, we have perhaps inherited it and in our DNA this structure, this difficulty of life. And what do we do? What do we do? We can improve? These are the questions that are the Indians put, but I have noticed that these are the questions that are also the other people in other places. And so, the event of today, I think it's the expression of putting these questions. I'm very happy to be here with you to try to answer together. In Indian thought, finding these questions, similarities, referring to a focus point based on this concept that we are going to share our questions and answers and knowledge with each other. For India, for all the Bharatiya languages, for all the Bharatiya Tattvas systems, Purana is very important. In that Purana, Purana is a part of a very huge further higher text. Let me not go very extensive into it. But there is one Purana. In that Purana, there is a huge chapter called Akkhana. It is called Lalitopakkhana. Sorry. There is a question from India. troviamo queste domande in alcuni dei nostri testi legati appunto ai concetti che abbiamo visto adesso e in particolare li troviamo in un Purana ora non entrerò nel dettaglio fa parte di un testo molto più ampio molto più lungo di cui non entrerò nel dettaglio e in particolare c'è un capitolo che si intitola e qua chiedo il tuo aiuto Akkana La litopa Akkana So in this Lalita Upa Akkana Lalita, Upa, Akkana There are three words there You can consider them as three sections of that sentence Lalita is the mother Upa is something about her About her Akkana is the explanation You can safely take it like that Thank you please Quindi Lalita, Upa, Akkana Sono tre parole che compongono Sono tre parti che compongono questo nome Lalita è la madre Upa è qualcosa che la riguarda E Akkana è la spiegazione That is Lalita She goes by many other names She was called Lalita Because Now She could easily address the questions Very difficult questions That we have been asking in this concept of the seminar The all-knowing Brahma In the Puranas The all-knowing, most knowledgeable creator is Brahma It is he who addresses Lalita as mother And Mother is the solution for all this All the questions are there All the terminologies For these weirdness, twistedness, inequalities And difficulties, inappropriateness Whatever you call it You know, imperfections Everything is there in the Samskuta terminology And you can put it all And refer to A person like me Suffering from that It is called Papa Papa is the suffering Papi is the person Yes Yes Loosely translated Tutte queste domande si trovano E troviamo in sanskrito Anche tutta la terminologia Che fa riferimento alle difficoltà Alle disuguaglianze In questo caso abbiamo usato il termine Imperfezione Si trova tutta la terminologia Tra cui anche appunto La malattia Papi So if you put it all together All these imperfections Is there a solution? Should we completely leave it to the mother? To Take us out of all this Make us perfect Make us energetic Or is Are there things That we can do? Is there somebody else Who can Get us Into this? All these questions Are there And my present speech My presentation Will address These things To some extent Because the subject Is Huge Se mettiamo tutte queste Imperfezioni insieme Chiediamoci Ma allora C'è soluzione? Dobbiamo lasciare tutto Nelle mani della madre Che sarà poi lei A renderci perfetti? Oppure Ci sono delle cose Che possiamo fare anche noi? E c'è qualcuno Che ci può aiutare In questo percorso? Ecco Queste sono le domande A cui proverò A dare una risposta Naturalmente Senza poter Dire tutto Perché l'argomento È enorme Però insomma Cercherò Di avvicinarmi A qualche risposta Such You may Say that As solutions These are called Referred to As upaya The way To overcome Upaya Le soluzioni Vengono definite Con il termine Di upaya Che vuol dire È un modo Per superare Diksha Is one such Upaya E Diksha È una di queste I'm sure Some of us Some of you Would have Seen A Little bit Like this This man Initiating This young man Telling him Something Looks with Great compassion This young man Receiving the Blessing Or the Sentences Has closed His eyes With Bliss The man This Rushi Or Muni Or whatever You want to Refer to Is saying This with Great compassion With love Affection Protection And A Thankful Receiving Being Initiated Person Has Done The Namaskara And One Hand Touches The Heart Of This Guru Questa È un'immagine Che Magari Qualcuno Di Voi Può Aver Già Visto Simile Un'immagine Di Questo Genere Ecco Qua Vediamo Un Uomo Che Inizia Un Altro Uomo Un Giovane Vedete Che L'uomo Che Inizia Il Giovane Ha Questa Espressione Di Grande Compassione E Invece La Persona Che Riceve L'iniziazione Agli Occhi Chiusi Esprime Grande Gratitudine E Quindi Il Senso Che Percepiamo Appunto Di Grande Compassione Di Amore Di Affetto Di Protezione Da Parte Del Guru Mentre L'iniziato È Molto Grato E Con Una Mano Tocca Il Cuore Del Guru This In One Word On A Very General Term You Can Call This As Diksha So You Got Lalita You Have Got Something To Give To Somebody You Can Call That As Vidya Or Knowledge Or Enlightenment Are Good Word And That Is The Diksha System Now You Got All So Will This Take Me Out Of My Problems Will This Help Me I Was Born Child I Don't Remember Much Of My Childhood On The Cradle And Then When I Woke Up Some I Have My Earliest Childhood Memory Is Perhaps Watching My Mother Or I Watch Somebody Whom I Immediately Refer To As Mother And That Memory Will Stay With Me Forever I Can Get Old Like Hundred Years I May Have Lot Of Memory Problems But This Memory I Will Never Forget My Request You Do Translate Yes Of 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 This In Una Parola Is Diksha So There 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 Qualcosa Da Donare La Vidya Che Possiamo Chiamare Anche Conoscenza Illuminazione E Questo Sistema È Diksha Ma Questo Risolverà I Mi Problemi Mi Aiuta A Risolvere I Problemi Dunque Io Quando Nasco Quando Si Nasce I Ricordi Che Abbiamo Dei Nostri Primi Momenti Di Vita Nella Culla Non Li Conserviamo Più Non Ci Ricordiamo I Primi Ricordi Invece Riguardano La Madre Aver Visto La Persona Che Identifichiamo Come Madre Questi Sono I Primi Ricordi Che Resteranno Con Noi Per Sempre Se Magari Arriveremo A Essere Molto Anziani Anche A Cento Anni Magari Avere Qualche Problema Di Memoria Però Il Ricordo Della Madre Invece Resta Per Sempre Con Belong To Maybe It Matters A Little But Actually In The Core It Shouldn't Matter Mother Is A Mother And I Extend For My Affection For My Love For My Connectivity I Extend This Mother The Concept Of Mother To A Little More In Various Aspects Like I Call The Elderly Lady A Mother And I Call My Daughter My Little Mother And Various Aspects So If You Put All These Perspective Together And Want To Address It With One Syllable Indians Called This Mother As Shree La Madre Resta La Madre A Prescindere Da Quale Disciplina Religiosa Si Segua Forse Anche A Prescindere Dalla Propria Ideologia Magari Qualcosina Cambia Però La Madre E Sempre La Madre E Questo Senso Di Amore Di Affetto Che Si Prova Per La Madre Poi Lo Si Può Ampliare E Chiamare Madre Anche Una Persona Anziana La Mia Figlia La Chiamo La Mia Piccola Madre Ecco Tutto Questo Lo Possiamo Esprimere Con Un'unica Ma You say Mommy Whatever You want To say Before You Begin Of this You want To say Something You know Mother And you Are addressing Her In your Mind In your Mind's Eye Or you Are actually Addressing Her In person Whatever It is Said That the Moment You begin To utter The very First Part Of that Word Mummy And Shree The Brahma In the Lalitopakhyana Said Taday Vatvam Tasmai Dishasi Nijas Ayujya Badavi Bhavanitvam Dasemai Vitaradrishtim Sakarunam Itistotum Vanchan Kathayati Bhavani Itiyah Sorry I had To say This I couldn't Escape This long Sentence It is In samskuta But anyway The gist Of it Is this The great Shankaracharya In that Verse Called Saundar Yalhari Said Bhavani Mother When the Ashanthi Please Please take Take all This out He has To say This That's His Intention But The moment He says Bhavani Within that Time The mother The mother Already Knows And Has Granted All The Things That The Child Ever Aspired For Don't You Feel This Is True The mother Knows Why The child Is Crying Chiederò Poi Aiuto Per la Parte In Saskrito Allora Quando si Dice Quando si Inizia A dire La parola Shri Madre Ma Mamma A prescindere Dalla Parola Che Si dice Non appena Si inizia Ad emettere Il primo Suono M M O Sh Si evoca Già Tutto Quello Che La Madre Poi Naturalmente Lui Ha Espresso Una Lunga Frase In Sanscrito Il Succo Di Quello Che Ha Detto Che Fondamentalmente Quando un Bambino Inizia Anche Solo A Dire La Parola Che Si Riferisce Alla Mamma Alla Madre Ha Già Un' Intenzione Sta Già Esprimendo Il Suo Desiderio Che La Madre Porti Via Tutto Quello Che Causa Dolore Sofferenza Vuol Dire Mamma Dammi La Gioia Lavami Dammi Da Mangiare E La Madre Appena Sente Il Suono Sa Già Che Cosa Il Bambino Vuole Di Che Cosa Ha Bisogno E Gli Sta Già Dando Gioia Sta Già Offrendo Aiuto Per Portare Via Il Suo Dolore Non Avete Anche Voi Questa Esperienza Che Le Madri Sanno Già Perché Loro Figlio Sta Piangendo So There Are Two Ways Here Nishkala Kala If You Address Mother Shri In Your Own Mind's Eye Without Giving Any Form Or Content You Know It Is Mother In Your Life For Your Prana For Your Life Force You Know The Mother You Are There And The Mother Is There And If You Don't Give It Any Formal Content Yet Pray It Is That System Is Nishkala If There Is A Formal Content Even A Formal Content Like This It Is Kala Vediamo Adesso Due Concetti Nishkala E Kala Se io evoco Shri La madre Con la mia mente Con l'occhio della mente Ma senza darle Un contenuto Formale Questo perché io Per prana Per la mia vita stessa So che cos'è la madre Allora questo è Nishkala Se invece io gli do Già Un contenuto Formale È Kala Gli ho fatto vedere un'immagine Che se avessi tempo ora di spiegare nel dettaglio Riassume perfettamente Tutto quello che è Shri Diksha Il contenuto della purana Ma adesso non ho il tempo di farlo Quindi passo all'immagine successiva Have you seen the moon Have you watched the moon Wex and wane From The day Or the night When you cannot see the moon To the day Or the night When you can see the full moon The Indians counted it As 15 Plus One Each Mother For each Moon 15 Plus One Plus One Ecco Avete presente la luna La luna Che in tutto il suo ciclo Passa dall'essere Nuova Ad essere piena Quindi dal non vederla A vederla Ecco Gli indiani Hanno identificato 15 madri Più una Per tutte le fasi Della luna Our dear professor The learned professor Janiji Told us Have already told you about the Shri And Vidya Vidya is knowledge Vidya is Don't you feel your consciousness You do know you have a consciousness Isn't it You do feel yourself Isn't it If you do that That is the first instance of Vidya That's where you begin According to Shri Vidya It is this consciousness Invested In you By The Shakti And you see 15 plus One All these 15 In all the 15 Varieties of the mother Plus The 16th version A complete version Representing everything And you see this New moon To full moon And all these Half moon And things like that I have eliminated Just to be You know Just to take you out of More confusion Abbiamo già sentito Ben spiegare dal professore Che cos'è Shri Che cos'è Vidya Che è il sapere Voi avete una consapevolezza Di voi stessi Sentite voi stessi Ecco questa Consapevolezza È la prima forma Di Vidya Questa Consapevolezza di sé Che viene da Shakti In questa immagine Vi ho fatto vedere Appunto Le 15 Varietà Di madri E poi La sedicesima Che È il tutto E va appunto Dalla luna nuova Alla luna piena Poi negli altri Immagino non sono Rappresentate tutte le fasi lunari Ma insomma È questo Each of these figures 15 Please I request you to Fix this Number 15 We will need this Further down 15 And 15 Plus 1 Plus 1 Is the summation Of all these 15 And a little more Plus 1 The 16th Is the complete one Which contains No moon To full moon In all its varieties The 16 mothers Of Shri Vidya Are the upaya To take us out Of all the miseries Of all the diseases Of all the twistedness Of all the imperfections It is she Who blesses The redemption Ricordate questo numero Questo 15 Ognuna di queste Madre Più 1 Che è la somma Delle 15 madre Più qualcosa Qualcosa in più È completa Completa tutto Cioè contiene tutto Dalla luna nuova Alla luna piena E tutte le fasi Ed è Shri Vidya Che è Colei Che riesce A portarci via Ad allontanarci Da tutto il dolore La malattia Le imperfezioni E che ci benedice Che benedice La nostra redenzione I really want to congratulate her She is What I can call as The italian Vakya Sentence Atma Of my Humble English Sentences No è troppo generoso Perché dice che Sto rendendo in italiano Le se umili Frasi in inglese Che umili Non sono per niente Bellissimi Anzi Grazie So I want to Hurry up Into the Deeksha Method You see The Shri Chakra Ascribe to the Sixteen mothers Shri Chakra We have to Talk about this Looking at the Shri Chakra Looking at Explaining the Shri Chakra Putting my Mind You know My eyes Around If you take A journey Around The Shri Chakra Just look at Start anywhere Take a journey That will Usher you Into The first And most Blissful State Or step In Shri Vidya E ora parliamo Di Appunto Di Diksha Qua vedete Il Chakra Di Shri Che contiene Diciamo Telle 16 Madri E vi Invito A fare Un viaggio Intorno A questo Chakra Di Shri Partendo Da dove Si vuole E fare Il viaggio Intorno A questo Chakra È il Modo Più Veloce Per Arrivare In Uno Stato Di Pace E A Iniziare Shri Vidya You have Heard About The Word Tantra Tan And Trai Both The Samskrita Root Says To Protect To And Stop Being Husband And Wife And Then You Became Father And Mother So The Kameshwara Kameshwari Is Of Great Importance In Shri In Shri In Shri Vidya Avete Probabilmente Sentito Parlare Della Parola Tantra Che È Composta Da Tan E Trai Nella Radice Sanscrita Che Significa Proteggere La Protezione Del Padre E Della Madre Qua Vedete La Lita Ma Nel L'autore Del Testo Che Citavo Prima Nel Lodare La Lita Nel Shiva Di Suo Marito E Quando Shiva E Lalita L'hanno Creato Come Figlio Nel Momento In Cui Cran Un Figlio Smettono Di Essere Marito E Moglie Ma Diventano Padre E Madre E L'ultimo E Diventa Kamishwara Che Appunto È Uno Dei Nomi Di Shiva She Is Also Known By The Word Kama Not The Desire Kama Equated To The Prana Your Life Force And Ishvara Kameshvara Here Out of The Six Varieties In The Tantra Starting From Ganapati Subrahman That That Is Skanda And Shiva Surya Vishnu Shakta Shakti Out of These Tantras The Shakta Tantra Is Also Called Brahma Vidya Also Known As Sri Vidya Tantra Qua Invece Ho proprio Bisogno Un po' Dell'aiuto Sui Tanti Termi All'interno Dei Sei Tipi Di Tantra Che Hanno Ganapati Come Ganesha Come Obiettivo Che Hanno Vishnu Come Obiettivo Che Hanno Skanda Come Un altro Nome Di Un figlio Di Shiva E Gli Altri All'interno Di Questi Tre C'è Lo Shakta Tantra Che Ha La Shakti La Potenza Universale Come Obiettivo All'interno Di Questi C'è Sri Vidya Ok Now Will it Really Do The Trick Will I Be Absorled Of All My Imperfections If I Do Sri Vidya Will It Help Me Look My Problems Are Not So Great But I Want This Gone Will What Will Help Me Will Sri Vidya Help Me Will The Mother Help Me So What Should I Do All My Problems Are Huge I'm Praying For The World Peace The World Is In A Turmoil I'm Praying For World Peace Will My Mother Help Help So What Should We All Do Will Sri Vidya Help Perhaps These Are The Superficial Questions That I Will Have To Ask There Are More Personal Questions You I Have I Have Personal Questions Some Of You May Have So With This I Will Before Jumping Into The Diksha It Is These Quest Leads The Quest To The Next Step Called Diksha O Anche Se Pensiamo A Problemi Gravi Pregare Per La Pace Nel Mondo Il Mondo Adesso È In Grande Caos Ecco La Shri Vidya Può Funzionare Ci Aiuta Che Cosa Possiamo Fare Insieme Queste Sono Domande Magari Che Possono Sembrare Un Po Più Superficiali Ce Ne Saranno Certamente Anche Di Più Personal Per Ciascuni Di Noi Ecco Partendo Da Questa Prima Domanda Possiamo Entrare In Quello Che Chiamiamo Diksha The Diksha Means Dhihi Kshalanam Iti Kshha Is Wash Take Out Water Off Do Something Which Harmonizes Get Some Peace Or Something Happens Which Clears The Problem That Is Kshha In Diksha C'è La Componente Kshha Che Significa Lavare Rimuovere Fare Qualcosa Che Porti Armonia Qualcosa Che Porti Pace Questo Ha Il Significato Di Kshha Dhi 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 Is Your Own Consciousness So If Something Has To Happen At That Level Of Consciousness Diksha Is Applied To Dhi If You Combine Both That Is Diksha And It Is Of Two Types Invece Dhi Dhi E La Coscienza E Il Se Dunque Unendo Le Due Parti Lo Kshha Succede A Al Dhi Quindi È Qualcosa Che Succede A Livello Di Consapevolezza Si Applica Al Sé E Questo Appunto Crea Diksha Che Può Essere Di Due Tipi Diksha Is A For India Diksha Is A Very Ritualistic Procedure There Is A Ritual It Can Be Very Grand Very Huge It Can Be Very 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 Private It Can Be A Situation Where The Bestower And The Bestowed Sit Together Intimately Or It Also Is Possible That The Bestower Is Somewhere Else In This World And The Bestowed Is In The Other Half Of This Globe Yet Diksha Can Happen Because He He The Consciousness Is There One 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 Is You Say Mr. Nandakumar I Want A Diksha Because There Are Some Things I Can Do With It What !? Are Are There Any Varieties I Can Choose From Don't Confuse I With 100 More Samskut Av kom Just Give Me Two I Can Give per qualcosa, però non mi proporre cento varietà diverse di Diksha e poi mi confondo. Dammene un paio e io me ne propongo appunto due. La prima è Veda, la seconda è Shakta. In Sri Vidya, both forms of Diksha is possible. It can be both forms, in Veda Diksha and the Sri Vidya, that is Shakta Diksha, things can be very complicated or things can be very, very, very easy. Yet, some measure of good things can happen. Realizations can happen. Initiations can happen. Self-realization, knowing one's own self, warning of all the obstacles and problems, these things can happen in both these Diksha systems. In entrambi questi due sistemi di Diksha previsti da Sri Vidya, ecco, entrambi sono possibili e possono essere molto complicate o molto semplici, però qualcosa può succedere in entrambe le Diksha. Si possono arrivare a delle realizzazioni, ci possono essere delle iniziazioni, innanzitutto si può arrivare a capire quali sono gli ostacoli e i problemi della nostra vita. It is not all about religion, it's not all about temples, it's not all about a particular set of gods or goddesses or persons that you want to attain. No. It can be about what vocation you do in your life. I have selected Kala Diksha because I am a musician, I need Diksha. So, before you, since I am going to sing a few songs also, three songs actually connected to this, I selected Kala Diksha as an example. There are many other such Diksha, believe me. Ci sono tanti tipi di Diksha e non è tutto per forza legato alla religione, ai templi, può essere tutto molto anche più semplice. Io ho selezionato la Kala Diksha, questo perché io sono un musicista e dopo questa presentazione canterò anche per voi tre canzoni, però ce ne sono anche tante altre varietà, ma ho scelto questo sistema da presentarvi. Briefly, suppose you want to achieve excellence in your corporate world job and you've got a lot of problems there. I'm born with some... I know I can do it, but I'm not able to do it because of factors which I don't know. This is the nexus I'm involved in. So will the Diksha help in such a situation? So what should I do? Faccio un esempio di un caso, ad esempio qualcuno che desidera raggiungere l'eccellenza nel proprio lavoro, lavora in un contesto aziendale, una persona che magari sa di poter fare certe cose, ma invece non ci riesce, ci sono degli ostacoli. In questo caso la Diksha può aiutare? Sì, ci può aiutare. Coming back to the Shri Vidya in its cultural sense, I can find sentence, I can find equivalence to all its mundane applicabilities. Mundane. In this world, everything is important. Nothing is unimportant in this world. For Shri Vidya people, nothing. Bhoga and moksha, the pleasures of this world and the final emancipation, both are equally important. Would you kindly? Nel Shri Vidya, in senso culturale, tutto questo può essere applicato a qualsiasi cosa, anche della vita quotidiana, cose pratiche, perché in questa visione tutto è importante. Sono importanti sia i piaceri, sia l'emancipazione finale, i termini sanskriti. che sono i piaceri del mondo, i piaceri tancini. Moksha, the final emancipation. Moksha doesn't mean closing your eyes and going away. Moksha actually means attaining the pinnacle and a little more than that. It is attaining the great excellence in your walks of life. In fact, if you have attained that moksha, in your bhogha, that status of moksha in the bhogha, or the status of bhogha in the moksha, moksha in the bhogha, you will have realized atman. Atman. Soul. Volevo anche specificare che il moksha non significa chiudere gli occhi e andare via da qualche parte, ma significa arrivare proprio all'apice massimo, al raggiungimento dell'eccellenza anche della propria vita. Si può raggiungere moksha nel bhogha, nel bhogha, e questo può portare appunto all'atman che è il sé. There is a system in which you can do it. The second one, preparation, taking an oath to perform with the devotion, obtaining the ability, authorization, and the spiritual involvement. c'è un sistema, e sono quattro passaggi. Innanzitutto c'è la preparazione, poi c'è il giuramento, l'impegno a svolgere, a eseguire, c'è poi l'ottenere, l'abilità, la capacità, l'autorizzazione, e infine c'è il coinvolgimento spirituale. In Vaidika Diksha it is a little laborious. In Shakta Diksha it is not all that laborious. It is a little more easily achievable. Can happen anywhere in this world. and for both there are specific steps to get this job done. These two pictures, I have got it written by one Mr. Nanjoon Swami in Mysuru. look, I think he was inspired. Here the question who is who can get it done? Who can get a Diksha? The answer is anybody who really genuinely honestly wants to. Anybody. We have heard Mr. Nandakumar that there are Varanas, Vargas, Jati and things like that in your country and there are also a voice saying that certain kinds of people cannot get it. They are not allowed to get it. Is this true? You say that everybody can get it. But is it true? In this image we bring to the topic of who can get it and who can get it Diksha for all those who who are in quest they want to get it there are two purposes one to know to really try something out really be honest go deep do almost all I can to get it first section second section they do it all but at the end oppose and try to negate the very system they are trying to learn there are two kinds Well si può però ci vogliono delle diciamo ci vogliono degli elementi innanzitutto bisogna voler provare qualcosa in maniera sincera onesta e con grande profondità e quindi fare tutto il possibile per arrivarci poi in seconda c'è un secondo aspetto ci sono persone che pur provandoci quando arrivano alla fine negano l'intero sistema che stanno cercando di apprendere children they want their children to go to the teacher and ask the teacher sir will you give me diksha that is usually the vedic method is this here on to your right there is a huge banyan tree where there is one guru and there is only one shishya you and your teacher are under the huge knowledge tree called banyan tree and there is one to one the guru you can see in this picture is more invested he is trying to go to the shisha and ask my dear child my dear person my dearest will you get this shri vidya from me this is shakta that is vedica and both are called upadesha both are called in queste due immagini vediamo due processi diversi nella prima immagine sono immagini tradizionali nella prima vediamo un insegnante che è seduto sotto un albero non saprei dire esattamente di che albero si tratta e ci sono tutte queste persone che portano i loro figli per andare dall'insegnante e chiedere darai la diksha a mio figlio a destra vediamo un'altra situazione c'è un enorme albero di baniano che è un enorme albero della conoscenza e sotto sono seduti un guru e il suo shisha il discepolo che sono seduti sotto questo enorme albero della conoscenza in questo caso vediamo che il guru è molto più partecipe è più coinvolto ed è lui che dice figlio chiaro vuoi ricevere da me la shrividya e questa è shakta in entrambi i casi si tratta di upadesha c'è 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 vedica vaidica e shakta c'è 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 yajna c'è 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 swastika in the wrong order c'è specifically made it as wrong order because there are two varieties the left hand and the right hand and then these the khalasha and the mandala and there is this diksha process the guru and the shishya and after these two things are over shishyas have questions shishyas have trouble their troubles are not over yet then they again go to the teacher and ask it's not done so what more should I do these are the three things one the beginning next the actual initiation and then the third is called Vyakkhana vediamo in queste immagini le cose che sono necessarie per il processo di diksha ci sono intanto degli elementi da portare vediamo intanto la swastika nell'ordine errato nell'ordine inverso perché c'è l'ordine destro e sinistro c'è il mandala c'è il mandala il vaso e quindi questi sono gli oggetti le cose che servono gli elementi che servono poi c'è l'effettivo processo di iniziazione e poi c'è una terza fase in cui lo shisha ha ancora delle domande da fare al guru perché si accorge che non sono scomparsi ancora i problemi e che ci sono ancora delle domande da fare ecco questo è quindi sono i tre elementi. purtroppo il tempo stringi devo cantare voglio cantare le mie canzoni e quindi ecco vi ringrazio tantissimo per la grande gentilezza che mi avete fatto a stare qui seduti ad ascoltare quello che avevo da dire e devo sbrigarmi per giungere la conclusione. vi avevo chiesto di ricordare il numero 15 e ricordo che nel Shri Vidya il guru è la madre, la madre è il guru. e brevemente vi spiegherò i diversi tipi di guru o di madri. Shikshika che è il discepolo è uno dei tipi di guru, sì, pardon. Poi c'è Upanyasaka che dà il sapere e insegna il sapere di un argomento specifico. poi c'è Adhyabhaka che insegna il sapere su Veda e Shakti. Bhattaraka che è invece il guru del re dei regni, un po' come un importante funzionario del governo. Upadhyaya, he bestows knowledge through Shastra, academics. L'altro guru che ha citato che invece dona il sapere accademico. Pravachaka che legge al discepolo. Pravachaka che legge al discepolo. Acharya che è molto importante per lui invece insegna dando l'esempio con il proprio agire. E poi c'è il guru guru che è diciamo quello che solleva lo spirito del discepolo. che porta alla conoscenza ultima, all'eccellenza. Con questo possiamo classificare tutto questo in tre livelli. E tutti li possiamo classificare, suddividere in tre livelli. Madre, padre e acciaria. E per i tre, diksha, shiksha e jnana. Diksha, iniziazione. Shiksha, istruzione. Jnana, sapere. Chodaka è uno che ti spinge al sapere. I padri non fanno questo. I padri anche fanno questo. Ehi, cosa stai facendo, Nandukumar? Non puoi andare a giocare. Devi sentire qui e leggere. E questo è il chodaka. Guarda, il padre e la madre che ci spingono a fare qualcosa della nostra giornata, tutto questo è già chodaka. Bodhaka spiega il sapere e fa leggere le conoscenze. Moksha, lui o lei, invece è colui o con lei che fa raggiungere l'eccellenza. Ci sono cinque pitrus, il nostro DNA. Ora, il padre e la madre, la linea non è solo pitrus. Ci sono altri pitrus anche nella Shriv Diksha. In Shriv Diksha ci sono cinque, diciamo, persone importanti, non soltanto il padre e la madre, ma ci sono anche altre figure. Janaka, l'uno che dà la vita. Ah sì, Janaka è colui che dà la vita, che fa nascere. Upaneta, l'uno che bestows Upanayana, ti dà il primo, iniziale, speciale knowledge. Poi c'è Upaneta, che è colui o con lei che dà il sapere, un sapere specializzato. Kanyadatta, il nostro padre e la madre, che dà il suo figlio o con i suoi figli, che dà il suo figlio o con i suoi figli, che dà il suo figlio o con i suoi figli per raggiungere. Sono anche pitrus per noi. persone importanti sono anche il Kanyadatta, che sono il suocero o la suocera, colui o con lei che donano, danno il figlio o la figlia in matrimonio. Anadatta, colui o con lei che nutre. Lui non ti tratta, non è come i hotel. Lui non prende niente di te. Lui ti tratta, per che ti stai sano. Per il tuo nourishmento ti tratta. Lui ti tratta perché rimaniamo in salute. che si tratta, che si tratta al nostro corpo, che si tratta. E poi, che si tratta. Che invece, tiene lontano la confusione e la paura che abbiamo dentro di noi. Innumerable cose. Qui il mondo del guru, il mondo dei shishyas, si apreva in progressione geometrica. Ci sono molte, molte, molte combinazioni di questo. Non mi riuscite ancora. Ci sarebbe tutto un mondo da esplorare, una sorta di progressione geometrica di tutto il mondo dei guru e degli shishyas, ma adesso non ho l'occasione e la possibilità di entrare nel dettaglio. Dirò soltanto i nomi. Divyabhava pradana ca kshalanat kalma shasya ca diksha itikathita. che è un processo che si tratta di tutti i tuoi problemi. Un processo che ti tratta, un processo che ti protegge, un processo che ti protegge, un processo che apre la tua mente a più di eccellenza. perché tutto questo è diksha. Ha detto i nomi, ma poi diksha è un processo che allontana i problemi, che pulisce, che purifica, che protegge, che apre la mente. Out of all these dikshas, I will take one or two examples, because at the end, if you do kindly indulge me, please come up with questions if you have any. In order to be a little chodaka for that, I will take one from the top line and one from the bottom line. Vi farò l'esempio adesso di due diksha, tra tutte quelle che sono elencate qua, una dalla riga di sopra e una dalla riga di sotto, e poi naturalmente se ci sono delle domande sarò anche lieto di rispondere. I will take this nirvana diksha. Prenderò la penultima nirvana diksha. Nirvana diksha is one which is a process of taking out the covers, taking out the layers under which we are burdened, are pressed down to our problems. Nirvana diksha è il processo che rimuove tutto ciò che ci schiaccia, tutti quegli strati che ci schiacciano e che ci tengono schiacciati sotto i nostri problemi. e può essere di due tipi, bhoga e moksha. O both nirvana diksha si applica a entrambi. Ok. I can go a little bit further into this, but it depends on your question. And then, out of this, I will take shambhavi diksha. Ah, this is very important. You may have heard about this word, shambhavi. But what happens during the diksha is that the guru, the diksha giver, closes his eyes. He doesn't even touch you. He is somewhere else in his own world, but has the intention to give you all the knowledge, all the experience, and hence all the spiritual and atman power that he has. on to the shishya. With full freedom. I have henceforth given it all to you. Go and do whatever you want to do. And yet, for both, there are rituals which I show here. In both cases, there are rituals which I show here. three yantras and three things here. One is the mandala, the other is the kalasha, the other is the yajna. Yajna, kunda. Mandala, the design thing here, kalasha, which contains consecrated water, and the yajna place. Place where they do yajna. Sacrificial fire. And the three yantras. We will have to talk about it in the next, really. I hope I get another opportunity to talk about yantra. It is very important. Everything is necessary. But in an active, worldly way, all these are taken, procured, used for the diksha process. In the shambhavi diksha, everything is inward. The one is called the bahir yaga. The other is called the antar yaga. Sorry. One which is done with all sorts of things in this world. I mean, kalasha, yantra, everything. Things. That is bahir yaga. But if you are able to put it all into your mind's eye, take it into your heart, meditate upon it, and get a diksha. That is antar yaga. You don't use worldly things. But if you are lucky, like our Gurukula, if you go and join a great Gurukula, both antar yaga and bahir yaga happen simultaneously in equal energy and process. It is called maha yaga. maha yaga. Even if you are fortunate to get any one thing, will the twistedness go away? Will I be so empowered that I will be absolutely the finest being? Is the question. Or will my problems be war? That's the question. The answer to this question is not simple. There are so many millions and millions of these blessed souls who are born on this earth, who have active consciousness like all of us here. Each of us come up with our own flavors and fervors and varieties of difficulties, imperfections. But the answer is also simple. If one's life process, the process of living directs you logically, not just happenstance, to a situation of a very perfect and most auspicious deeksha, it is possible to realize the solution to the problems in two levels. The first process is called kamya. The first process is kamya. The second is nishkama. No kamya at all, no desire at all. The finest achievement in both is the you get what you want. That is kamya. By various baby steps or various jain steps. It is possible. This is kamya. This is kamya. This is a total disillusionment in the consciousness. Totally. Really. It is absolute. Strange as it may sound, dear people. It is this state, this state of existence, that all dikshitas, one who are initiated, the one who have taken great pains to achieve. the status of no kamya at all, no desires at all. It is this status. It is called nishkama, niranga, many names. It is this, is the ultimate state. It is this, finally, the spiritual bhartiyas of the Indians tried ever since to achieve. everything in this, whatever you aspire for, is given and you are completely satisfied for life. That is also the attainable state. That state is called nishkama. or there comes a state where you say, I don't want anything. Really. Nothing. And that state is also nishkama. And that state is satisfied. For that, the Sri Vidya preceptors, the Gurus, found out 16 yantras. Look, I put them all here, most of them. These yantras either take out the desire from you and hence the imperfections leading you to the redemption or give everything so much so that there isn't anything more that you can know to ask. anything more that you ever would want again at all. You cannot even imagine. What more do you want? If that state, each of these yantras, these are called titinitya chakras. I guru dello Sri Vidya hanno identificato 16 yantra che sono rappresentati qui da questi tiniya chakra e che possono o togliere qualsiasi desiderio e così portare alla redenzione oppure dare tutto affinché non ci sia più nient'altro che si possa o si voglia desiderare. tre darsanas sono là, Dvaita, Advaita, Vishishtadvaita. Ci sono tre processi di enlightenment che sono là. Out of that, I belong to the Advaita darsana discipline. ha detto il nome della disciplina a cui appartiene? So, will this talk solve problems? Do you know that you have some difficulties like you can't solve it with your own abilities? I honestly don't believe that you are all so much empowered that you are all here and you look maha tege swiss, there aren't problems in this world that you cannot solve, surely. but should it come at all? God forbid, should it come at all? Diksha is one of the processes that you can think of. Sri Vidya is one of the branches of ritual and knowledge and doctrines you can think about. E questo discorso, questo mio intervento ci aiuterà a risolvere i problemi? Allora io sono certo che tutti voi abbiate delle difficoltà, dei problemi, alcuni li potete risolvere ma ci sono dei problemi al mondo che non possiamo risolvere, io non credo che in questa sala siamo tutti così pieni di potenza tale da poter risolvere tutti i problemi. Ecco, per risolvere i nostri problemi Diksha è uno dei modi possibili. La disciplina dello Sri Vidya è un ramo del sapere, una disciplina che ci può aiutare a risolvere le difficoltà. Il dialogo non è finito qui. Il dialogo non è finito qui. Il mio esplorio non è finito qui. Ma il tempo ha un limite. Quindi non è una conclusione, ma è un tapere di questo. Io, anche, on behalf of the three of us e on behalf of the organisers, extensivamente congratulate you for your birgha avadana, your presence of mind and your smiling faces, your encouraging expressions. Really, it is a joy for me to talk before you. It has been a great experience for you, for me. I don't know about you. I hope it is equally joyous for you. I will present to you after that three songs related to the entire process. Naturalmente la mia spiegazione non è completa, ma il tempo è tiranno ed è finito e quindi non c'è una conclusione. Mi auguro però vi avervi dato delle suggestioni. A nome di noi presenti qui sul palco, a nome anche degli organizzatori, io vi ringrazio profusamente per la vostra presenza mentale, per i vostri visi sorridenti, per le espressioni incoraggianti dei vostri volti. per me è stata un'esperienza ricca di gioia parlare a voi e mi auguro che anche per voi sia stata un'esperienza altrettanto gioiosa. Dopodiché canterò tre canti che sono legati all'intero processo che ho cercato di illustrarvi. di nuovo grazie e invito adesso i nostri tabla pandit il nostro pandit il saggio nella tabla che accompagnerà con la musica questa questa parte. Grazie. 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 a song it has to be a place a river wherever with all the energies with all power but it must be one place where on where in India our Bharata can we find such a place the gurus said there is one that is Kashi famously known as Varanasi and somebody asked them can you describe Kashi they said Kashiam hi Kashate as long as it is there it is ever shining with light of knowledge so my first song is on the place of Diksha A the 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 Rina Mano Nivritti Parabopashanti Mano Nivritti Paramopashanti Mano Nivritti Paramopashanti Sathirthavarya Sathirthavarya Manikarnikac Jnana Pravaha Vimaladiganga Jnana Pravaha Vimaladiganga Jnana Pravaha Vimaladiganga Sakashikatham Nijabodaroopah Nijabodaroopah Yasyamidham Yasyamidham Nathindilna Tadildilna 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 Takadildilna Yasyamidham Kalpidham Indrajalam Characharambhati Mano Vilasam Mano Vilasam Yasyamidham Kalpidham Indrajalam Characharambhati Mano Vilasam Satchitsukhaika Paramatma Rupa Satchitsukhaika Paramatma Rupa Sakashikaham Sakashikaham Nijabodaroopah 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 Tadindilna Takadindilna Tadindilna Koshesupanch Swadhirajamana Naadindilna Takadindilna Naadindilna Koshesupanch Swadhirajamana Buddhirbhavani Pratidehageham Buddhirbhavani Pratidehageham Sakshishivaha Sarvaga Thorantaraatma Sakashikaham Nijabodaroopah Takadindilna Pukhannan Kaskashikaham Kaskashikaham Kaskashikhah Kaskashikaham Tanindilna Takadindilna Kashi Kashi Sarvaprakashika Saka Kashi Vidita Yena Tena Pratahi Kashi 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 K Jnana Ganga Jnana Ganga Jnana Ganga Jnana Ganga Jnana Ganga Bhakti Shraddha Gayeyam Bhakti Shraddha Gayeyam Nija Guru Charna Dhyanayogah Prayagah 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 Vishwoyeshoyam Turiyah Sakalajana Manasakshi Bhutah Antaraatma 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 Dehe Sarvamadiyye Yadivasati Punahatirtham Anyathe Kimasti Anyathe Kimasti The next is knowing the self. We have gone to Kashi, got Diksha. What happens? What should happen? Shankaracharya has said this. Please listen. Translation. Translator will be a traitor. I don't want to translate. Again request you to just listen. Manobudhyahankarachittani Naham 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 For that.. you need a guru This composition in Karnataka sangeeta, the Karnataka music, I. my music Gives you the complete explanation Complete Of Guru One Ta dhinta tak dhinta Ta dhinta tak dhinta Let's go Shri Guru Gukha Murta Shri Guru Gukha Murta Chi Chakti Sphuburta Shri Guru Gukha Murta She Chakti Sphuburta Shri Shajanavanaghirta Sumuhurta Jaya Jaya Shri, Guru Guha Murti, Chaya Chakti Spurte, Shesha Navanakirte, Sumurte. Jaya Jaya Shri, Jaya Jaya Shri, Jaya Jaya Shri, Guru Guha Murti. Yogini Hrudaya Prakashachitavritte, Yuga Padbhoga Yoga Pradana Nipunashate. Yuga Padbhoga Yoga Pradana Nipunashate. Jaya Jaya Shri, Guru Guha Murti, Chaya Chakti Spurte, Shesha Navanakirte. Sumurte, Jaya Jaya Shri, Jaya Jaya Shri, Jaya Jaya Shri. Jaya Shri Sampate Arat Shvetamishra Charana Pravritte Atmakoti Bhate Anadimayopate Atmanubhavasar Santru Upte Neer Upte Atmodaya Ravichandrika Udayaravichandrika Ravichandrika Atmodaya Ravichandrika Atmodaya Atmodaya Ravichandrika Atmodaya Ravichandrika Sandeepte Paramatma Shri Chidananda Natha Paramatma Shri Chidananda Namaste 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 Shri Guru Guha Borty Jaya Jaya shri Guru Guha Mút T Jaya Jaya Shri Jaya Now, the shishya, the disciple, and the guru are both in one status. It is called shivoham. Surely, some of you have heard it. Shivoham. I am. That is the status. Yes, I am. This song. Fives. 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 Laạc, lai, 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 lai… Mano buddhya haṅkāra chitta nināgham Mano buddhya haṅkāra chitta nināgham Naca śrotra jihve Naca ghrāna nitre Navya marbhamir natejo navāyuhu Naca vyobabhūmihi natejo navāyuhu Chidananda rūpa shivokam 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 Chidananda rūpa shivokam shivokam Naca prāna saṅnyo navai pancha vāyuhu Navāsapta dhātur navāpancha koshakā Navākpāni padau na chopasthapāyuhu Chidananda rūpa shivokam 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 Navākpāni padau na chopasthapāyuhu Navākpāni padau na chopasthapāyuhu Chidananda rūpa shivokam 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 Navākpāni padau na chopasthapāyuhu Navākpāni padau na sa Спасибо Jira rūpa shivokam 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 shivokamahohu Grazie a tutti 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 Grazie a tutti